Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. Signore e signori, buonasera a tutti e benvenuti al videocammento capitolo 1052 di One Piece. Di chi è la citazione di oggi? Mi sto appassionando alle citazioni. È stata una cosa così, l'altra volta era Muhammad Ali, chi sarà mai oggi? Allora, ovviamente, come potete ben intuire dalla citazione, parleremo anche di quel discorso, dell'istruzione, perché mi sento un po' tirato in causa ed è un discorso particolare, però ovviamente non solo quello, perché vabbè, è un passaggio, giusto così, per fare una riflessione in più, perché questo canale è caratterizzato da queste cose, però ovviamente è un capitolo in cui c'è tanto da dire. A partire dalla cover, mettiamola subito in gioco, eccola qui, Gastino, Cesar Clown, un personaggio che tra l'altro proprio nelle ultime live parecchi lo cita. Sai che fine ha fatto Cesar Clown? Ebbene sì, questa mini avventura che secondo me da questo momento in poi diventa tanto importante quanto la trama principale, cioè stiamo vedendo il finale dell'esercito di Kaido da una parte, nella trama principale, e giustamente stiamo vedendo anche il finale dell'esercito di Big Mom dall'altra. Che fine faranno i figli di Big Mom? Magari li troviamo metà nella trama principale e metà al finale della mini avventura. Certo è che le mini avventure fatte così sono molto belle, Oda negli ultimi anni le sta poi intrecciando la trama principale, basti pensare al Ponegriff di Jinbei che poi entra proprio Hulk e Kailen, è proprio questa saga magica Hulk e Kailen, e quindi Gastino. Secondo me Gastino potrebbe anche andare a chiedere un passaggio a Germa, però questo lo vediamo dopo. Dopodiché parliamo ovviamente di molte cose, a partire da Basil Hawkins e di Esdrecchi, che è stato sicuramente un momento anche disegnato in maniera molto da film, molto teatrale, non ci credo molto alla morte di Basil Hawkins, ma per il semplice fatto che Oda già si rammazza uno, figurati si rammazza più di uno in un capitolo. Poi che cosa c'è ancora? Ovviamente vabbè in generale tutta la storia di come va a finire questa saga, compreso appunto il discorso molto interessante sull'istruzione, e poi ragazzi cari andiamo a parlare velocemente anche dei Funny Moments. Qui poi non è che c'è molto da dire, se non una rilettura, e mi auguro che voi siate ancora quelli di una volta. Magari gli stessi che dicono che Oda non è più quello di una volta, ma mi auguro che adesso siano loro ad essere ancora quelli di una volta, nel senso che se cambiate voi è dopo un po' difficile dire che Oda non è più quello di una volta, se non è cambia. E' come se mi metto gli occhiali da sole e dico eh ormai il cielo non è più quello di una volta, è più scuro, grazie a cazzo ho messo gli occhiali da sole, no? Ecco, l'idea è anche un po' quella. A me personalmente il seguito è piaciuto, è stato un po' un tuffo nel passato, alla faccia della trama, anche se poi sul finale soprattutto, mamma mia ragazzi, esce fuori addirittura parte del potere a quanto pare di Toro Verde, e soprattutto un incremento della velocità, dello speed della trama, interessante perché Toro Verde è arrivato a Uano. Però detto questo, sigla. Allora, come vi dicevo ieri sera, per motivi vari del computer che ho dovuto resettare tutto, non è più i video introduttivi, non ho più la sigla, non ho più niente, però il buon Kregors è stato così gentile da inviarmi una sigla di cortesia al volo, sapete, tipo l'auto di cortesia, quello che ti resta il meccanico, quindi lancio una sigla con una sigla un po' diversa, giusto così, per lo sfizio di poter dire sigla. Ecco, togliamo sta cosa perché la sigla è bellissima, so io che faccio schifo. Comunque detto questo, e questa è un'altra storia, comunque grazie mille a Kregors per il mio modo, avete mi dato la soddisfazione di dire sigla, poi ovviamente adesso lavoreremo magari per un intro, però adesso partiamo subito, subito, subito a video commento. Partiamo ovviamente, andiamo sempre in ordine di vignette e il capitolo inizia con il palazzo Pangea, con i gorosei che parlano. Ecco, la prima frase che mi ha colpito dalla lettura era questa, è scomparso dalla nebbia quell'elefante, che diavolo era? Qui Oda secondo me se l'è giocato un po' in maniera particolare perché avrebbe potuto dire di tutto, avrebbe potuto dire ma quello era proprio Zuniscia, era il leggendario Zuniscia che ci faceva qui il popolo di Zuo, allora è vero che Zuo e Wano erano legati, poteva dire tante robe, poteva addirittura far dire ai gorosei hai visto quel ragazzo, lo shogun, riesce anche a manovrare Zuniscia, probabilmente l'ha chiamato lui, hai visto il clan Kozuki, riesce, poteva dire tante robe, no, che diavolo era? Cioè praticamente su Zuniscia nessuno sa che cos'è e soprattutto ricordando che Zuniscia è appartenuto alla ciurma, diciamo così, di Joy Boy il che ancora una volta ci insegna che Joy Boy è un nome che molti conoscono ma di effettivo probabilmente non si sa nulla di lui altrimenti avrebbero detto ma Zuniscia non era già quello nella ciurma di Joy Boy così come vedete anche Kaido non ha mai riconosciuto il potere di Rufi dicendo ma tu hai il potere esattamente come quello della leggenda di Joy Boy quindi Oda se la gioca così Joy Boy è un nome famoso ma nessuno sa nulla di lui nessuno riuscirebbe a dire Tovala riconosco qualcosa di Joy Boy poi a parte quello arrivano i primi complimenti per Momonos che sembra che abbia modificato i loro piani alla luce dell'attuale situazione tra loro ci deve essere qualcuno di assennato a proposito di fatto che Wano ancora non apre le frontiere allora qui due riflessioni veloci una partiamo da qui ma che cacchio significa aprire le frontiere cioè nel senso che l'apertura delle frontiere del Giappone è stato un evento storico che significava semplicemente l'apertura dei commerci l'apertura dei porti cioè le navi potevano attraccare potevano entrare e uscire questa è l'apertura delle frontiere non è che aprendo le frontiere un esercito straniero può tranquillamente entrare e invadere un altro cioè anche noi in Europa abbiamo le frontiere aperte però poi non è che tu puoi metterti a bombardare un altro stato poi se lo fai ovviamente dichiari una guerra non è che sto facendo riferimenti al discorso è proprio così non è che bisogna chiudersi dentro altrimenti gli altri stati ti attaccano quindi che cosa intende con questa furbizia nel rendere la fortezza impenetrabile? l'unica spiegazione è quella che il governo vorrebbe non attaccare Wano toglietevi dalla testa questa idea perché ho visto che alcuni ce l'hanno ma secondo me vorrebbe semplicemente inglobare Wano all'interno delle nazioni che partecipano al governo mondiale che significa? significa che tu paghi la famosa tassa che abbiamo visto varie volte in One Piece in cambio noi ti offriamo la protezione del nostro esercito e probabilmente poi nel fare questo noi intrufoliamo anche le nostre manacce all'interno del tuo stato cioè con la scusa che poi tu entri nel governo noi ci andiamo poi a intrufolare mettere le mani dove non dovremmo ecco l'idea forse è un po' quella ma non l'idea di attaccare perché ieri si parlava anche le frontiere intese come barriere architettoniche barriere naturali cioè è come se loro avessero detto adesso come facciamo ad attaccare Wano se le frontiere sono ancora giuste ma non credo che vogliono dichiarare guerra secondo me è una storia un'altra il motivo poi per cui si fanno i complimenti a Momonoso è che potrebbe essere legato a qualche spiegazione proviamo a vederne qualcuna Momonoso che perché ancora non apre Wano anche se era la richiesta iniziale che aveva fatto Rufi beh probabilmente perché ha saputo qualcosa magari da Zuniscia, da Marco da persone che vengono da fuori qualcuno gli ha detto guarda ci sono delle noti tu lascia stare non aprire le frontiere non entrare in questo momento perché se arriva qua il governo a proporti dei patti e delle robe è meglio di no ricordiamoci che il governo era andato a Wano la CP0 era andata a Wano proprio per proporre un patto no vi ricordate con Oroci tu ci dà le armi e poi Oroci aveva detto voi ci date Vegapank e loro c'è col caso eccetera quindi la prima è questa lascia stare in questo momento perché se arrivano qui quelli del governo ti rompono le varie chiuditi dentro lascia tutto chiuso altra cosa un intuito nel senso che lui ha intuito che il mondo lì fuori è marcio non se l'aspettava e ha detto nel frattempo riorganizziamoci e poi vediamo che fare la terza cosa che l'ha più affascinata ha letto il diario e torniamo al discorso della volta scorsa cioè che probabilmente lui sa che viene una grande minaccia mondiale il governo c'entra fino a un certo punto quel che c'entra è che proprio si sa che nel mondo di One Piece sta arrivando questa grande minaccia che sarebbe arrivata contemporaneamente alla riapparizione di Joy Boy probabilmente però l'idea è anche quella non è male anche tutto questo scenario insomma il quarto il terzo comunque il più bello e poi andiamo avanti sempre con i Gorosei loro dicono ora avendo anche i numeri dalla nostra parte invadere One sarebbe impossibile e qui addirittura parlano poi di invadere lo stesso perché attenzione se loro aprono le frontiere come vi dicevo prima noi possiamo entrare in questa sorta di patto e possiamo andare a mettere poi le nostre manacce luride come vi dicevo poc'anzi magari ad esempio sui Pony Griff su qualche tesoro su qualche segreto del paese beh se questo non apre le frontiere significa che anziché prenderceli in questa maniera diplomatica ce l'andiamo a prendere con la forza quindi o apri o non apri le frontiere a noi cambia poco ecco perché vi dicevo il discorso di prima cioè se tu vuoi fare guerra le frontiere o le tieni chiuso o le tieni aperte è guerra quindi c'è poco da fare dobbiamo arrivare lì dobbiamo attaccarti Buster Collins non se ne parla più ma in questo momento dicono che comunque sarebbe impossibile attaccare Wano anche avendo i numeri dalla loro parte perché allora una frase da scorporare bene i numeri dalla nostra parte potrebbe essere appunto la nuova arma di Vegapunk che a questo punto difficilmente è un super soldato oppure magari pochi super soldati esempio sono sette cici bucai sette super soldati creati da Vegapunk no è più probabile proprio che sia un esercito vero e proprio cioè Vegapunk ha portato avanti lo stesso progetto che aveva portato avanti con Giaggi quindi qualcosa del genere una specie di super struttura con tanti soldati d'elite potentissimi immaginiamoci di Marineford non con i soldati che erano più o meno anonimi che combattevano contro i mozzi di barba bianca ma una storia diversa con super soldati tutti fortissimi magari probabilmente che simulano anche Kuma quindi veramente un esercito mostruoso numerosissimo questa è la prima cosa quando parla di numeri e allora perché però al momento nonostante questi numeri è impossibile attaccare Wano perché al momento questo esercito è impegnato nella lotta contro gli Shichibukai quindi Oda poi si mette in mezzo giustamente questa tempistica altrimenti dovrebbe fare subito subito un'altra saga di Wano 2.0 dove la nuova arma di Vegamanca attacca Wano e poi sarebbe anche incestibile nel senso chi cacchio combatte più su tutti i mezzi morti ecco dopodiché andiamo ancora avanti sempre che corosei si parla di Nico Robin perché qui ho scritto una scelta ambigua ambigua nel senso che potrebbe piacere o non piacere più che altro più che scelta ambigua avrei dovuto dire arma a doppio taglio perché ci sono dei pro e contro ad esempio quello che non mi piace di contro è il fatto che è strano che nel governo c'è veramente non bisogno di Nico Robin per leggere i Pony Griff ma pare strana perché Nico Robin è di grande caratteristica questa sa leggere i Pony Griff quindi prima potevamo pensare che il governo non voleva leggere i Pony Griff voleva semplicemente uccidere tutti quelli che potevano farlo e quindi abbiamo la famosa strage di O'Hara di tanti anni fa quando Againo era ancora vice ammiraglio per dire e quindi stavo in quel periodo all'epoca sappiamo anche che il governo non era interessato né ai Pony Griff né alle armi ancestrali erano altri tempi erano altri tempi abbiamo anche la dimostrazione leggendo One Piece che poi soprattutto Spandam è stato riuscito proprio a convincere di Corosei a dire guardate non possiamo andare avanti così semplicemente occultando la storia dobbiamo andare a mettere le mani sulle armi ancestrali perché il mondo sta diventando un luogo pericoloso e quindi il governo ha cambiato strategia non vuole più uccidere quelli che leggono i Pony Griff vuole prenderseli e vuole mettere le mani sulle armi ancestrali infatti il governo negli ultimi anni l'abbiamo visto più volte parlano di epurazione i tempi sono cambiati è giunta l'ora delle decisioni irrevocabili eccetera eccetera quindi probabilmente adesso vogliono proprio Nico Robbins perché ne hanno bisogno però qui appunto arriviamo a quella cosa che non riesco bene è possibile che il governo ha bisogno di Nico Robbins cioè perché dicono sempre catturare non uccidere Rufi siamo sicuri lo vogliono uccidere Nico Robbins la vogliono catturare ma quella una è la caratteristica e sta leggendo i Pony Griff l'unica altra alternativa che è quella che potrebbe vagamente piacere è che la vogliono usare per ricattare per farsi la guerra contro i rivoluzionari cioè sanno anche che Nico Robbins è un'arma ben voluta dei rivoluzionari la chiamano la luce della rivoluzione e quindi la vogliono usare per un po' come hanno usato Ace per Marineford vogliono utilizzare per far arrivare i rivoluzionari questa potrebbe essere l'altra storia invece i pro i pro è che comunque in questa maniera con l'eventuale cattura di Nico Robbins avremmo sicuramente subito subito un'altra saga tipo Nies Lobby se ne sta parlando tantissimo non è che mi piacerebbe tanto però vabbè perlomeno si apre subito un altro scenario poi secondo me è anche il ritorno di Crocodile perché Crocodile è l'uomo che ha presentato Nico Robbins e Oda l'ha riutilizzato sappiamo benissimo che è ancora in giro sappiamo benissimo che è insieme a Mr. One sappiamo benissimo che è entrato nel nuovo mondo però non ha fatto ancora un tubo sarebbe un modo anche per utilizzare il personaggio ovviamente rivoluzionare che sono legate a lei e poi secondo me a parte queste mie teorie ma i colpi di scena ne potrebbero essere tanti su Nico Robbins è un personaggio particolare c'è poco da fare il personaggio della ciurba che più si collega e si intreccia a tanti altri personaggi in giro siamo onesti è così Nico Robbins è l'unica in questa maniera perché poi il resto un po' Sanji si è intrecciato con la storia di Gen ma poi gli altri poca roba e vabbè tagliando poi Rufy la D e tutto quello che c'ha e infine poi questa prima parte si conclude con la super hype di capire chi sarà questo tizio che sta andando a Uano e che si intromette nella connessione ma ne parliamo dopo invece adesso parliamo brevemente del fatto di Rufy e poi andiamo sul discorso dell'istruzione allora partiamo da qui c'è una panoramica stupenda perché in questa scena si vede Onigashima completamente caduta che giace un po' inclinata col corno mezzorotto verso la capitale dei fiori che sta più in alto è simbolica è molto simbolica questa scena secondo me è una delle più belle panoramiche che ha fatto Oda allora vediamo la storia di Desdrake e Basil Hawking è molto bella dal punto di vista teatrale come vi dicevo prima Oda la descrive così Hawking all'impiedi senza un braccio che cammina in difficoltà barcolla dopodiché si siede a terra mentre invece Desdrake è proprio seso a terra proprio a 4 di bastone quindi lui si offendono un po' a vicenda come due ex amici che dicono allora questo era il tuo gioco tu ti sei arrelato con Kaido anche se poi in realtà stavi con Kid e quello che risponde invece quello era il tuo gioco era un cane della marina iniziano un po' a insultarsi a vicenda come dire sì vabbè siamo entrambi sporchi lascia stare vaffanculo la mettono un po' da questo punto di vista e poi arriva qui la grande rivelazione perché effettivamente all'epoca comunque ci avevo un po' ingrippato questo discorso chi è questo 1% di possibilità ne erano state dette tante Kaido Rufio Rochi Yori eccetera ma in realtà l'1% era proprio lui e c'è questa sequenza che è veramente bella queste due scene secondo me qui l'anime si stanno già come dire sto finando le mani e adesso facciamo un capolavoro di puntata qui con la morte tra virgolette di Basiloki non mi è piaciuta tanto poi andiamo avanti a Wano mentre i Gorosei parlavano del risveglio di Nika Nika si è mostrato qui invece si parla di Joy Boy entrambi i nomi stanno iniziando a rimbalzare nel mondo e mi è venuto in mente anche questo siamo sicuri che a questo punto Rufi verrà chiamato Monkey di Rufi vuoi vedere che magari uscirà Monkey di Rufi tra virgolette Nika Joy Boy inizierà proprio a rimbalzare anche questo nuovo nome se non lo dicono i Gorosei nella taglia lo potrebbe dire Morgans nell'articolo stiamo attenti perché secondo me il nome verrà molto pubblicizzato molto pubblicizzato al punto che Rufi verrà proprio chiamato da questo momento in poi Joy Boy andando a sconvolgere il mondo mi immagino la reazione di Shanks quando saprà che Rufi ha risvegliato il potere di Nika pensiamoci un attimo Shanks al momento non sa niente ora prenderà la notizia Rufi ha risvegliato il potere di Nika lo sapeva già Shanks? era quello che stava aspettando? la teoria di Shanks è cattiva adesso qui iniziano a saltarsi oppure semplicemente qualcosa che gli era stato accennato però la cosa interessantissima nel villaggio già lo chiamano Joy Boy e poi abbiamo la decisione di Oda ha deciso di non far sopravvivere tutti ne ha voluti ammazzare due che sono sepolti accanto ai grandi nomi quindi vicino al corpo di Oda negli Asuye Ryuma all'epoca il dio della spada altri dai miei importanti ebbene sì Ashura Doji e Izo non ci sono più un po' come a Mare in Ford prima o poi tante persone qualcuno ogni tanto deve morire ha preferito per questi due Izo perché è un personaggio che effettivamente non c'ha proprio più niente da dire e Ashura Doji perché giustamente è un bel personaggio ci stava così uno doveva morire ha preferito quello lì su Kanjuro penso che sia morto anche lui e Oda non dicevamo più niente bello anche il fatto che Kinemon chiede a Marco se è d'accordo così una cosa giusta un'osservazione una sottolineatura che mi mi premeva a fare perché era comunque interessante e arriviamo adesso alla parte dei funny moments invece questa è divertentissima secondo me allora qui ragazzi non hanno visti veloci c'è poco da dire i funny moments sono simpaticissimi qui andiamo spediti si parte da Iori che picchiamo monoseche per ricordare di quando erano bambini si picchiavano a pugni eccetera anche se non è che è molto chiara sta cosa nel senso che cioè Rufi e Zoro sono guariti io ti do un calcio in faccia non è che ha molto senso però va bene è One Piece poi queste scene simpatiche con Yamato che abbraccia Rufi Cioppere che abbraccia Zoro uno che chiede l'alcol uno che chiede la carne carina anche questa qui un altro funny moment 3 che ho voluto selezionare per voi secondo me questa è molto carina di momonosche che vuole promare ancora una volta a sfruttare il fatto che un bambino per toccare le tette di Nami perché sapevamo benissimo che lui non è che prima lo faceva perché era ingenuo lo faceva perché ne stava approfittando lo sapevamo benissimo che era così adesso invece purtroppo le piglia e quindi con grande soddisfazione di Brooke e Sanji che almeno godono di questo poi un funny moment 4 che ci teneva a sottolineare per voi era questo Yamato che mette un piatto rovesciato in testa momonosche per cercare di simulare la pettinatura di Oden allora due riflessioni la prima è che Yamato ok è coerente col personaggio perché sappiamo che lei adora Oden e giustamente lo cerca ovunque lei cerca di imitarlo è chiaramente diversa da Oden Oden è un uomo con una faccia rettangolare Yamato è una bonazza ma a parte quello momonosche che un po' di più ci somiglia volevo farvi notare che Oda l'ha disegnato anche con il mento proprio squadrato come il padre perché momonosche quando è sera avrebbe il mento appuntito in questa scena gli ha fatto il mento proprio quadrato ecco meglio rettangolare vedete proprio la faccia sembra quella di Oden e poi mette il piatto in testa ma l'altro discorso interessante oltre a Yamato è proprio che Oden Oda sa benissimo lo sappiamo tutti che i suoi disegni sono un po' caricati cioè sono bizzarri uno che guarda One Piece per la prima volta capisce subito dice ma che è sto manca ma che sono questi disegni cioè alcuni personaggi sono veramente ridicoli One Piece gambe storte pensate a Doflamingo quando cammina per dire cioè veramente Django sono personaggi assurdi mi ricordo uno dei primi personaggi che ho visto nell'anime è stato Django con mio cugino abbiamo iniziato a ridere ma che è sta strunzata cioè è vista proprio così One Piece è un manco che uno deve conoscere per capire la profondità no Oda ci gioca un po' su infatti personaggi come Weeble tutti si aspettavano il settimo Cici Buccai chissà che esce un personaggio assurdo che sembrava di mezzo fra Obelix e un ciccione cioè eppure che poi in entrambi i casi ciccione però non mi veniva il secondo personaggio detto ciccione però quello che è interessante è che Oda comunque ci gioca su lui dice io creo un personaggio come Oden che ha questo design particolare e fa niente lo so che faccio disegni bizzarri ci gioco anche io lo stesso va benissimo andiamo avanti Funny Moment 5 che poi in realtà non l'è più di tanto abbiamo un Sanji geloso e abbiamo una Iori che ci dice che è stata lei a lavare a prendersi cura dei corpi di Rufy e soprattutto di Zoro mentre loro erano svenuti quindi è la seconda volta che Iori praticamente salta proprio addosso a Zoro perché anche la prima volta Zoro è stanco dopo che ha combattuto contro Killer e alla fine si addormenta e la mattina dopo lui si sveglia con Iori che sta abbracciato a lui dubito che nel sonno Iori come dire si sia girata dall'altra parte ed è finita casualmente sul corpo di Zoro questa è proprio cotta di Zoro capito e questa è la seconda volta che si prende cura del corpo di Zoro mentre dorme questa è proprio non dico che è una ninfoma ma praticamente questa qui secondo me è proprio innamorata di Zoro è la cosa mi piace sapete benissimo ne ho parlato anche ieri io spero tanto che i studio staranno insieme e infine ci sarebbe questo pseudo funny reflexive moment sul fatto che Yamato è andato nel bagno degli uomini e Kiko è andato nel bagno delle donne a parte poi le battute le cose perché fanno anche un po' parte del nostro modo di vivere One Piece in maniera sbarazzina poi dopo abbiamo affrontato il tema anche in maniera seria ne abbiamo parlato e abbiamo detto vabbè facciamo una riflessione anche su questo io sapete benissimo però che ho questo problema uno dice strike di qualcosa di filosofico su questo argomento allora partiamo da qui parliamo del discorso di un uomo una donna si sente uomo si sente donna come vi dicevo ieri ragazzi cari a me non me ne frega un cazzo dell'argomento cioè Yamato che cos'è è un maschio uomo donna trans 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 qualcosa e qui cito il discorso onda e particella della meccanica quantistica perché in realtà questo discorso rientra nell'astrofilosofia pilastro 1 dell'astrofilosofia cioè la complessità tutto è complesso e dobbiamo sempre diffidare di chi ci propone risposte semplici la diatriba onda e particella si può affrontare in tanti modi così come il fatto che la meccanica quantistica purtroppo viene utilizzata per delle filosofie alla cazzo di cane che non c'entrano niente con la meccanica quantistica c'è gente che usa l'equazione di Dirac per parlare dell'amore cioè ma per cortesia invece il punto è un altro l'interessante discorso di onde e particelle è questo che l'elettrone può essere effettivamente o un'onda o una particella senza scendere nei dettagli ma la cosa interessante è che il problema psicologico dell'uomo è questo che cosa è un'onda un'onda è una cosa che io conosco perché vado al mare e vedo le onde che cosa è una particella una particella una pallina nella mia vita ho visto biglio ho visto ciliegie quindi conosco la forma allora quando uno mi spiega che cosa è un elettrone io nella mia testa ho bisogno di immaginarmi la scena quindi tu mi devi far capire se l'elettrone o è un'onda quindi io mi immagino una specie di onda che gira intorno all'ucleo dell'atomo oppure una particella come sui libri di scienza le medie mettono questa pallina solitamente blu che gira intorno all'atomo perché io che ho questa esperienza ho bisogno di utilizzare queste poche conoscenze che ho per catalogare un discorso la verità è che l'elettrone non è né un'onda né una particella e allora che cos'è è quel cazzo che vuole essere perché non è un problema dell'elettrone è un problema nostro che non riusciamo a catalogarlo cioè mettiamoci nei panni di un elettrone lui è sia un'onda che una particella il problema è nostro non è suo cioè non è che l'elettrone dice l'elettrone però devi decidere cosa cazzo può essere nella vita no lui è un elettrone e fa quel cacchio che vuole siamo noi che abbiamo problemi a catalogarlo ma qui subentra un altro discorso ma noi siccome questo tema ad esempio onde elettrone ammetto mi interessa come tema quello di che no io posso solo dirvi questo se a tutti va bene come accade in one piece allora va bene anche per me che significa se a tutti va bene molti si basano su Yamato e su Kiku visto Yamato cosa fa visto Kiku cosa fa no io vi dico visto anche gli altri cosa fanno togliendo Sanji che ovviamente ha la sua solita reazione ma quella ce la sembra Sanji basta gli fa vedenatetta e quello salta in aria col sangue che gli esce dal naso a parte Momonosica che giustamente si impressiona un po' ma avete notato che tutti gli altri se ne sbattono cioè la reazione di Zoro beve sono fotte proprio che sta pure Yamato lì è anche il contesto che fa la differenza io vorrei farvi notare in questa riflessione non tanto Yamato e Kiku ma tutti gli altri e la cosa che mi piace è che non è che la reazione degli altri è tutto intorno non è che Rufi Zoro Chopper stanno tutti lì a dire dai Yamato vieni insieme a noi hai visto che bello ragazzi siamo tutti insieme no la cosa che mi piace è che non sono fottone proprio e questa è la cosa bella questo è quello che si chiama contesto inclusivo il contesto inclusivo non è quando penso a scuola l'alunno in difficoltà ha tutti quanti intorno tutti che lo guardano e tutti che stanno lì il contesto inclusivo è quel contesto in cui tutti stanno insieme e basta cioè ecco questo sarebbe il discorso quindi punto uno la definizione ma la definizione è un problema di chi vuole categorizzare non dell'altro cioè secondo me se una persona è al 30% gay ma saranno cazzi suoi cioè che cazzo me ne frega capito punto numero uno a me non interessa punto numero due a me non mi interessa proprio cioè nel senso che sono proprio uno che caratteramente se mi dici ho visto quello secondo me è un po' gay la mia risposta è a me che me ne boccio ho tanti di quei problemi se mi fanno preoccupare se quelle ma saranno problemi suoi e terzo punto è che comunque è importante che è sempre collegato agli altri il contesto cioè volevo farvi notare che non è solo Yamato e Kiku che sono particolari in questa scelta sono gli altri che convivono allegramente con questo ovviamente la parte se a tutti va bene ok è una riflessione però anche su un altro discorso che ovviamente io non posso come dicevo ieri scherzando entrare nel bagno delle donne dicendo no ma sapete io sono bisex allora faccio un giorno nel bagno degli uomini un altro nel bagno delle donne perché magari la mia presenza potrebbe anche dar fastidio giustamente ecco quindi poi è ovvio che il contesto non deve mai essere disturbante e in alcuni casi può esserlo cioè non è che siccome uno è gay allora ha sempre ragione può fare tutto quello che vuole è chiaro il contesto deve poi generarsi ed equilibrarsi qui saremmo nel secondo pilastro della nostra filosofia che è l'equilibrio però siccome non facciamo filosofia dobbiamo andare avanti parliamo di ecco altra riflessione parliamo invece del discorso dell'istruttore cazzo ve lo so conservate alla fine allora in One Piece abbiamo questa brevissima scena del 1052 dove c'è una citazione diretta al ruolo degli insegnanti succede che va via un insegnante ne compare un altro i bambini non è che sono più che altro preoccupati da questo sono più che altro tristi per il semplice fatto che devono ristudiarsi di nuovo il programma da capo allora una riflessione sul discorso dei bambini partiamo da qui partiamo da questo primo concetto per i bambini non ci sono i buoni e i cattivi a quell'età lì esiste soltanto quello che tu mi dici che devo studiare se tu mi dici che ho rocce buono io studio che ho rocce buono è perché il concetto di bene o male di buoni e cattivi subentra magari un po' dopo e soprattutto a quell'età lì è un'età molto permeabile no? appunto la morale non è innata ma indotta nel senso che in molte nazioni in molte culture pensiamo anche i grandi raffinati greci quelli avevano l'eugenetica a Sparta i bambini con disabilità li buttavano giù dalla montagna per loro era normale quindi non è che abbiamo tutti la stessa morale sia ben chiaro e poi ovviamente ci si sofferma sul ruolo degli insegnanti attenti però a quella bufala che gira spesso su internet che in Giappone gli insegnanti sono gli unici che non devono inchinarsi all'imperatore la verità è che in Giappone nessuno deve inchinarsi all'imperatore tutti si inchinano perché è un gesto di cortesia ma non è che c'è sta regola non è vero è una classica bufala del cacchio tornando però a noi allora i bambini sono solo preoccupati dal fatto che devono risudiarsi il programma facciamo allora un discorso breve su questo fatto qui dell'insegnamento allora c'è tanto da dire sul ruolo dell'insegnante ciò che non viene discusso è la bellezza del mestiere cioè secondo me è un bellissimo mestiere però non è questo il capitolo in cui si può affrontare l'argomento ad esempio se volete guardatevi il bellissimo film Capitano mio capitano Robin Williams quello è un film che parla di quanto è bello fare l'insegnante ma qui l'argomento è un altro l'argomento è questo che succede quando in uno stato c'è una dittatura che impone agli insegnanti di dire certe cose poi quella dittatura cade e gli insegnanti dicono altre cose il problema è proprio l'opposto che non si parla del fatto che l'insegnante è una bellissima professione ma viene umiliata cioè gli insegnanti secondo alcuni concetti potrebbero essere visti come delle puttane passatemi il termine dello stato dove lo stato mi paga e mi dice quello che devo dire cosa devo dire che Orocio è buono tu dammi lo stipendio ragazzi Orocio è un grande Cate Orocio dammi quello stipendio che devo dire mammonoso che è un grande cioè l'insegnante viene visto come una sorta di prostituta praticamente che sta lì a dire quello che è obbligato a dire nelle classi non è così perché le dittature ci sono state in alcuni casi purtroppo è vero gli insegnanti durante il periodo fascista erano costretti a dire che Mussolini era un grande pena o la perdita del lavoro o forse anche qualcosina di più anche la testa in alcuni casi e questo è vero questo è vero però è altrettanto vero che allora uno dice allora vedi non esiste lo giusto e lo sbagliato qualcuno anche ieri l'ha scritto in live la storia la scrivono i vincitori qui si cade però in un altro errore il relativismo siamo convinti che tutto sia relativo ma sì in fondo Orochi sai si può dire che Orochi era buono perché vinceva lui vince Momonosica e allora si fa dire che Momonosica è buono allora qui entreremmo nel discorso della teoria del complotto voi sapete benissimo che se si parla di questo inizio ad andare in escandescenza perché odio tutte le teorie del complotto tranne una quella secondo cui c'è un complotto dietro il complotto cioè se voi mi prendete uno che mi dice un complotto io l'unico pensiero che ho ma a te chi ti ha messo lì e quanto ci stai guadagnando per dire questa minchiata ecco l'unico complotto per me è quello che c'è dietro al complotto stesso ma togliendo questo fatto il punto qual è un insegnante anche adesso che siamo in democrazia c'è la libertà di parola può andare in una classe a dire che il vaccino causa l'autismo a dire che la terra è piatta a dire che l'omeopatia funziona ed è scientifica a dire che Garibaldi era un assassino che in realtà è stato il nord Italia a conquistare il sud come dicono i neoborbonici queste sono tutte teorie alternative alcune più veritiere altre meno tipo la terra piatta che è una grande minchiata però può un insegnante dirlo? No allora vedi siamo in dittatura fermi il problema è questo non è che siamo in dittatura è che non c'è questo grande relativismo lasciamo l'argomento se no qui veramente dovrei parlare per ora se volete lo continuiamo in un'altra volta mi fermo qui però non perché l'ho finito ma perché lo sospendo torniamo un attimo al capitolo 1052 è giusto considerare che l'insegnante che diceva Orocio è un grande adesso dice Momonosico è un grande ma in fondo è solo perché ha vinto Momonosico no ragazzi non è così relativo perché Orochi cioè la storia è anche oggettiva una dittatura è una dittatura Orochi era uno shogun che aveva schiavizzato le persone creato fabbriche avvelenato l'acqua avvelenato il cibo Momonosico queste cose non le fa quindi andare a dire che Orochi era un grande era una menzogna a tutti gli effetti perché stavano osannando una persona che stava ammazzando il paese e ammazzando le persone la stavano osannando perché stava manipolando le persone su Momonosico non c'è bisogno di dire chissà cosa non c'è bisogno neanche che ci sia l'obbligo Momonosico è uno shogun che ama il paese ama le persone non possiamo metterli sullo stesso piano con la scusa che è tutto relativo la storia la fa chi vince perché oggettivamente c'è un grande dislivello quello è veramente uno stronzo e questo è veramente un eroe quindi il ruolo dell'insegnante è un ruolo delicatissimo però dobbiamo stare attenti a non andare sempre sul fatto che tutto è relativo secondo me questa è una riflessione importante e volevo farvi notare una scelta di Oda molto bella sul capitolo non ha fatto dire e di questo lo ringrazio la stessa cioè due cose diverse alla stessa persona Oda poteva anche utilizzare lo stesso insegnante che prima diceva Orocio è un grande e dopo dice Momonosico è un grande meno male che non l'ha fatto perché io sarei stato contrario a questa scelta perché effettivamente avrebbe trasformato questo insegnante in una prostituta a tutti gli effetti intellettuale invece Oda è stato così gentile verso noi insegnanti a mettere come insegnante di Orochi uno dell'esercito di Kaido mentre invece come insegnante promo Monoseche una persona di Uano meno male a meno questo ci ha evitato la cosa e infine di chi era la citazione era di Malala una ragazzina che penso conoscete tutti se non la conoscete cercate Malala su Google e troverete questa ed altre sue bellissime frasi finiamo su Toro Verde grande hype di Oda ed eccolo qui ovviamente c'è Apu che spara le taglie sapete che a me delle taglie me ne frega nulla Oda può mettere 4 miliardi 5 miliardi secondo me non è quello che interessa in One Piece invece quello che interessa è l'arrivo vabbè poi sfocatevi voi sulle taglie è l'arrivo di Toro Verde eccolo qui abbiamo questo personaggio non sappiamo come comparirà cosa comparirà sappiamo semplicemente che sicuramente sarà anche lui uno degli attori giapponesi famosi il suo colore è il verde quindi l'unione del giallo e del blu bisogna vedere se anche caratterialmente avrà aspetti di Borsalino di Aokiji quindi una persona probabilmente comunque riflessiva non per forza cattivissima non legato alla giustizia assoluta quindi probabilmente che non andrà molto d'accordo con Akainu già Fujitora non ci andava tanto d'accordo questo secondo me è ancora peggio non avrà una sorta di visione dualistica tipo Fuggitora che lancia i dadi Rufi lo catturo sì o no ma lancia i dadi lui no secondo me è uno che poi io lo vedo una via di mezzo tra Aokiji veramente caratterialmente e poi una persona magari un po' sbarazzina un po' così lo vedo anche piuttosto simpatico probabilmente avrà anche una voce trascinata un po' alla Borsalina secondo me quello è il carattere il potere beh ragazzi io lo vado dicendo da tanto tempo se volete c'è un mio vecchissimo Pui di 7 anni fa dove vado a dire che lui secondo me ha il potere della natura dei fiori bisogna vedere se è addirittura il legno tipo Primo Kage però c'è tempo per vedere queste cose Oda probabilmente ci accennerà qualche altra cosina nel 1053 poi ci saranno poi un bel po' di tempo per rifletterci e sicuramente sta andando alla ricerca di Nico Robin perché ragazzi in fondo l'ha detto cioè è stato proprio chiarito bisogna andare a Wanda a prendere Nico Robin lui dice fermi sto andando io cioè non è che c'è molto da discutere allora vediamo le quote basta col termine terzo atto io ho dato l'ultima possibilità Oda non l'ha voluto chiudere il terzo atto quindi finisce qui togliamo questa cosa c'erano le occasioni secondo me nel precedente capitolo c'era alla grande Oda non ha voluto farlo va bene scelta sua sorge l'alba non c'è stato manco quella vabbè simbolismi che probabilmente erano troppo giapponesi Oda non ha voluto farli le prime reazioni mondiali ci sono state dai Gorosei e poi Rod Pony Griff is coming beh sì e no era una quota alta però secondo me il fatto che manchi Nico Robin in questo capitolo insieme a Raizo a Inuarashi Canistrice secondo me significa che stanno andando verso i Rod Pony Griff poi per la prima volta tra le quote metto anche la mini avventura e la prima volta che lo faccio secondo me Gastino fugge con Germa prossima cover della mini avventura me la gioco subito poi Marco secondo me ha finito il suo role a Buano se ne può anche tornare indietro ricordiamoci che lo è arrivato da solo tornerà via da solo probabilmente poi ecco nasce un nuovo titolo pirata le nuove persone Kid lo e gli altri saranno imperatori nominati imperatori perché secondo qualcuno nella traduzione parla di Kaio signori del mare effettivamente il titolo di imperatore è un titolo molto pesante dove deve avere anche un esercito deve avere coalizione deve avere territori forse il re dei pirati è unico è uno quello che conquista la rotta maggiore è solo uno c'è stato finora magari nascerà un nuovo titolo Rufi imperatore sicuro ma gli altri potrebbero nascere queste super nove iper nove sappiate sappiate che esiste anche la iper nova e poi Toro Verdi in azione quota un po' altina però non è escluso che si possa iniziare già a vedere qualcosa la più bella della settimana c'erano tante ma ho scelto sì ok mi sono tolto io ho scelto questa Sanji con la sua esplosione di sangue mi ha fatto pure dalle risate anche perché in un capitolo pieno di funny moments non potevamo mettere questa avete notato che ho anche cambiato qualche sfondo un pochettino però andava fatto perché appunto tutto il casino di ieri e infatti ho cambiato anche qui invece di mettere Crocodile mamma di Rufi ho messo proprio Crocodile direttamente in versione mamma di Rufi abbastanza buonazza carina sta fan art e allora andiamo a vedere un pochettino cosa avete scritto di fantastico sul mio forum allora andiamo un pochettino a leggere le vostre mirabolanti azioni qui vediamo un po' partiamo oh mio dio mi sono dimenticato di modificare fantastico fermi tutti tanto si com'è che si faceva devo togliere hidden da qui altrimenti non si vede la sbarra e io non posso più andare su e giù eccolo qui addio ah eccola la barra per andare su e giù altrimenti non potevo madonna mia quante cacchi di articoli 40 minuti è un altro capitolo di 50 minuti vai strike sempre riassuntivo allora roro 94 c'è lo strike abbiamo capito che i corosei vogliono conquistare Wano i governi non i cinque astri interessante spunto per delle teorie poi elefante inutile abbandona joyboy senza nemmeno dirgli ciao vabbè non sappiamo abbiamo saputo che dal 27 al 25 il 27 giugno al 25 l'io ci sarà pausa di 4 settimane di fila è stato annunciato ufficialmente che dal 1054 inizierà l'arco finale vabbè ne parleremo perché mo non c'è tempo anche per questo oggi ci hanno mostrato le cover con l'assalto del germa proprio per giustificare che i figli di Big Mom non siano arrivati a Wano magari hanno ricevuto una chiamata si sono fidati che Big Mom sarebbe stato al sicuro e i figli sono andati ad aiutare in ritardo dai loro padri infatti secondo me potrebbe essere che i figli di Big Mom stanno tornando a Hulk e Kanad d'emergenza proprio perché avranno segnalato Mondor Opera e quelli che erano rimasti lì Pudding stesso che Hulk e Kanad è sotto attacco l'ammiraglio poi non può portare via Robin così facilmente hanno tutti anche dell'osservazione sentiranno la presenza dell'ammiraglio appena arriva su Wano stanno ancora festeggiando lo incontrano eccetera eccetera il capo della sword inizia il basterco oh mio dio questo è uno scenario assurdo sì diciamo che c'è tanta roba cioè come accade sempre a fine saga adesso Oda inizia a mettere tantissima carne a cuocere come dicono i vegani poi ci dice Oda ci ha trovato per bene a questo giro il finale di saga di Wano è probabilmente uno dei più attesi di sempre e Oda che fa lo taglia questi sono già a banchettare rimangono un milione di questioni in sospeso che utilità ha avuto Zunisci figli di Big Mom cosa sono venuti a fare Oda si è scordato che ci sono anche loro sull'isola ovviamente Ro Zoro vede la morte e si riprende senza dire nulla i Rod Ponegriff che fino a fatto hai perfettamente ragione vado un po' veloce che c'è tanta roba da leggere però sì hai perfettamente ragione ma siamo sicuri che Oda si è dimenticato di queste cose oppure le ha volute le ha volute saltare saltare o sospendere sono due cose diverse saltare quando tu fai skip e poi quella roba non la vedi più mentre invece sospendere significa come anche accennavo ieri in live ad esempio il discorso di Zoro e della morte potrebbe essere che poi ci sarà un momento in cui Rufi e Zoro parlano ed entrambi dicono sai ho fatto un sogno anche tu anch'io cosa hai sognato la morte anche tu e anch'io ad esempio cioè sono argomenti che possono tranquillamente essere ripetenti i figli di Big Mom li troviamo nella mini avventura oppure torneranno proprio indietro nella trama principale ma stanno tornando indietro tutte queste questioni sospese secondo me Oda poi le sviluppa deve per forza svilupparle dubito che veramente se le hai dimenticate Zunisha Zunisha se n'è andato ma sono passati pure sette giorni non escluso che nel frattempo sono accadute tante robe interessanti cioè vediamo con calma poi andiamo avanti ritorniamo a leggere qui cosa abbiamo Ryokuku sta arrivando perché? questo bisogna chiederlo Oda comunque Mad Mario devo dire che per quanto mi sia piaciuto il capitolo mi ha lasciato con un certo senso di incompletezza step bruciati da Yamato mi ha stranito vederla già così integrata nella ciurma quando molti mi guardano nel corso della battaglia a stento l'hanno intravista mi manca il passaggio in cui il personaggio si fa conoscere in senso stretto dall'equipaggio così come manca la sua tanto attesa reazione nel constatare la somiglianza di Zoro con Ushimaru vero? questo è vero ce l'aspettavamo un po' questa storia il capitolo però torna a ridare il sapore che One Piece aveva un tempo grazie a un paio di misteri qui inseriti chi è che irrompe sulla nave della marina e di subito tra le svisture del CP0 vabbè ovviamente Ryoku eccolo qui finalmente entro in scena ho una mia ipotesi del perché si trovi lì ma è bizzarra cioè fammi sentì pare proprio che egli abbia un potere relativo alle piante vabbè questo non è nato da teoria se avessi deciso di utilizzare i propri poteri a One per aiutare a far tornare questa terra rigogliosa come era un tempo quello che ho inteso è che si parla di un personaggio che finora mi pare caratterizzato molto alla Rufi completamente indipendente allergico a obbliche direttive quindi appunto un borsalino col carattere di Aokiji Ryoku potrebbe essere l'ammiraglio che Garp non è mai stato e la prospettiva è molto affascinante quindi un ammiraglio allora effettivamente è vero quando subito partono in quarto dicendo mi raccomando non agire da solo ti prego come se avessero detto ti prego anche questa volta non fare tutto di testa tua è vero hai ragione e se pensiamo alla mia teoria dei colori il discorso lì se il suo carattere è un'unione di borsalini e Aokiji abbiamo un Aokiji che poi a un certo punto è talmente tanto Aokiji talmente tanto blu giustamente che si è andato proprio dalla marina borsalino no ci sta in marina però se metti insieme i tuoi caratteri trovi appunto un ammiraglio molto indipendente molto indipendente anche troppo e quindi potrebbe così però perché andare a Wano a far diventare di nuovo la terra rigogliosa un ammiraglio buono un ammiraglio non so filantropo beh questo non so se non come dicevano alcuni ieri lui è originario di Wano la cosa non è che mi farebbe impazzire però vabbè Ferruz buongiorno Strike come stai? spero bene parliamo del capitolo molto bello mi erano mancati questi capitoli di spensieratezza quando sono bene le gag con la Shurma inaspettate le morti di Ashura e Izo addirittura in due mi spiace che Oda non ci abbia fatto vedere l'alba anche a me sono passati già sette giorni comunque ha fatto un time skip Robin non è comparsa in questo capitolo mi sa tanto di momento Pony Griff esatto Toro Verde dell'ammeraglio della natura chissà chi sarà sicuramente un personaggio nuovo potrebbe anche avere a che fare con qualcuno della Shurma questo arriva a fine saga fin da subito mi è ricordato l'arrivo di Carpa Water Seven è vero magari un parente giustamente a parte gli scherzi potrebbe essere legato magari a Zoro ai capelli verdi Toro Verde magari anche legato a Wano non ha bisogno di mangiare quindi anche questo riferimento di un paese vabbè no questa cosa non credo lui non mangia perché è pigro se ho capito bene chiunque sia però anche se i nostri amici arrivano da una battaglia sfiancante non so questi ammiragli non li vedo più come una minaccia oddio bisogna vedere il potere che ha questo potrebbe essere anche un potere assurdo con Joe Boy il re degli inferi Vismock Cado Paladino De Mare Soge King Franky Shogun due ragazze con la sesta Sul King e Chopper beh diciamo che diventa una bella ciurma quella di Mugewara effettivamente condivido in pieno mi dispiace appunto per tutti questi skip che ha fatto Oda sicuro vabbè questo è uno dei topic più belli ricevuti sul forum uno che dice sicuro ah c'era il titolo Usopp nel 1050 chiuderà il terzo atto così almeno avrà fatto qualcosa ok grande teoria e infine lasciamo stare Usopp che mi ha deluso tantissimo sono incazzato con lui e infine Nico Robin rapito un cerchio di Rotpony Griff notizie sul secolo buio quale delle due allora vediamo quale delle due ipotesi uno potrebbe essere davvero stata catturata dal CP0 magari con qualche abilità sconosciuto di qualche agente non credo perché non avrebbero festeggiato Robin ha creato una copia di se stessa per poter essere libera di investigare nel palazzo ma non c'è neanche bisogno di creare una copia cioè nel capitolo non c'era proprio quindi nessuna copia allora riassumendo questo discorso insieme a quello di tutti gli altri ragazzi Nico Robin in questo momento probabilmente è alla ricerca di Rotpony Griff è sicuramente un personaggio che è interessante ne abbiamo già parlato prima ma il discorso è un altro i time skip perché Oda ha saltato già sette giorni ha evitato tante cose io spero e credo tanto che Oda voglia farceli vedere successivamente non è come il dente di Rufy rotto che poi alla fine tutti aspettavamo come l'avrebbe riparato poi beve il latte e lo ripara qui parliamo di cose che Oda potrebbe anche effettivamente mettere dopo certo c'è stato esempio come diceva Mad Mario la reazione mancante di Yamato quando guarda il volto di Zoro questo è vero ma non è escluso che comunque la storia di Zoro del suo legame con Wano la sua somiglianza con Ryuma possa comunque uscire successivamente perché Oda non può non affrontarla proprio veramente sarebbe stupida come idea quindi io spero ancora con calma che in seguito queste cose verranno affrontate in successivi flashback cioè cose che poi verranno aggiunte dopo prima del finale c'era anche un po' di Youtube però non so onestamente cosa state vedendo qui spero che Rufy ve la faccia entrare alla condizione che rinuncia a chiamarsi Oden giusto Tic vabbè un capitolo pieno di roba mi stanno antipati ma che è sta ma Tic eh si vabbè qui c'è tanta roba ma tanto ragazzi abbiamo 4 settimane di pausa voglia di reggere i vostri commenti qui dai andiamo a spedire al finale noi ci vediamo prossimamente io auguro un bellissimo weekend a tutti voi grazie mille per avermi seguito ieri live grazie mille a quelli che sono qui grazie mille a tutti mi raccomando fate i bravi ci vediamo prossimamente ciao buona domenica ciao ciao ciao